Nel momento in cui, come appare evidente, noi abbiamo una sconfitta militare di Islamic State in Iraq già abbastanza dispiegata, in Siria che si sta dispiegando, nel momento in cui dovesse appalesarsi una sconfitta militare cogente e drammatica per Islamic State, noi potremmo trovarci di fronte ad una rotta individuale, ad una diaspora di ritorno di foreign fighters che hanno combattuto in Siria e in Iraq. Ricordo a questa Commissione, per comodità di ragionamento, che le cifre sulle quali la comunità internazionale converge, ma sono sempre cifre di riferimento, nessuno sa con precisione quanti siano, ma insomma, grossomodo le cifre parlavano tra 25.000 e 30.000 foreign fighters che hanno combattuto in Siria e in Iraq, 25.000 e 30.000 provenienti da 100 paesi del mondo. Naturalmente una parte di queste foreign fighters è probabilmente morta nei combattimenti in Siria e in Iraq, che nel momento in cui dovesse appalesarsi uno scacco militare per quelle forze sui teatri siriano e iracheno è possibile, è probabile pensare che una parte punterà a ritornare a casa, e per loro la casa sono paesi dell'Africa settentrionale, sono paesi europei. In questo ambito non è da escludere, anzi è da considerare con una certa attenzione, che nel momento in cui si passa ad una attività di ritorno a casa di carattere individuale, non siamo più all'investimento di un assetto nobile di un'organizzazione che è presente sul territorio come Islamic State, ma siamo appunto alla fuga individuale, è possibile pensare che in questa fuga individuale, nel ritorno a casa dei foreign fighters possono utilizzare, per ragioni anche evidenti di strada aperta, le rotte dei trafficanti di esseri umani. Quindi da questo punto di vista il confine sud diventa cruciale contro i trafficanti di esseri umani e contro in azione di prevenzione nei confronti dell'antiterroresmo.